Qual è il migliore modo di imparare l'inglese? Divertendosi, o meglio ridendo. Quindi ora su Audible, only on Audible there's laugh and learn. Ridere e imparare, o anzi imparando ridendo. Allora noi, me, Daniela and Robert, abbiamo deciso di fare un corso usando le barzellette inglese. Allora, nelle barzellette inglese spesso usiamo the Englishman, the Irishman and the Scotsman. The Irishman, cioè l'irlandese, sarebbe la vostra carabinieri. Perché l'irlandese si dice, non è vero, ma solo per le barzellette, che non è proprio, diciamo, la stella più brillante del cielo. In inglese si direbbe così, he's not the brightest star in the sky. Infatti questo sarà dimostrato con un accento irlandese perfetta, perfetta. Daniela ci mostrerà questa barzelletta. Are you ready? Ready. Go. No, no, wait. Nella prossima pillola. No, 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 no Grazie.